Una mostra dal titolo Arte e moda italiana nel mondo, donna portatrice di pace, inaugurata non a caso l'8 marzo per richiamare attraverso un omaggio alla bellezza dell'arte del Made in Italy, la cultura della parità dei diritti e della pace dei popoli. L'evento, ospitato dall'8 al 15 marzo 2012 alla Camera dei Deputati, nella sala del Cenacolo del complesso di Vicolo Valdina a Roma, è stato aperto da Santo Versace, che è l'attore di un messaggio del Presidente Fini, ha fatto gli onori di casa nella doppia veste di parlamentare e di esponente di primo piano del Made in Italy. Antonella Ferrari, curatrice della mostra, ne ha illustrato contenuti e finalità. Grazie.